Consigliere Aiello, un'accusa molto pesante, una denuncia che lei fa rispetto all'abusivismo per ciò che riguarda le case popolari è una denuncia della quale si assume tutta la responsabilità che però fa nascere un grosso sostrato problematico in questa città in questo momento in cui proprio via Puccini soffre rispetto alla cattiva costruzione delle abitazioni e quindi Consigliere Aiello, cosa ha scoperto e soprattutto queste sue scoperte andranno a finire ovviamente sul tavolo della magistratura? Chiaro, io ho già scritto alla procura, al prefetto, anche alla guardia di finanza in tutto quello che io faccio ci metto la faccia, ne firmo con nome e cognome e mi assumo ovviamente la responsabilità non ho scoperto nulla, nel senso che ho portato a conoscenza delle autorità che poi saranno competenti ad accertare appunto i fatti che potrebbero esserci delle anomalie nella gestione delle case popolari per ora è un momento appunto delicato che non riguarda soltanto gli abitanti della via Puccini ma ci sono tante altre famiglie che magari adesso hanno la casa in affitto ma tra qualche giorno verranno sfrattate per cui non avranno dove andare a vivere perché purtroppo c'è crisi economica in tutto ciò potrebbero esserci delle case popolari assegnate in maniera legittima però vuote in quanto i loro legittimi segnatari potrebbero essere ormai trasferiti all'estero senza averlo dichiarato, potrebbero ottenere le case chiuse ed utilizzarle soltanto come case di villeggiatura da utilizzare una volta l'anno o due volte l'anno per cui ho chiesto che venga fatto un censimento di tutte le case con un controllo magari incroggiato dell'utenza, luce ed acqua inoltre ho chiesto che venga anche accertata un'altra situazione ossia il probabile mercato nero delle case popolari ossia case che magari vengono poi cedute da altri legittimi assegnatari in maniera appunto anche occulta, illegale per cui ci sarebbe un abuso di una casa a danno di chi? come coloro i quali abitano in via Puccini che come sappiamo adesso vengono trasferiti, si spera, in via provvisoria in container, in modo tale che poi possono avere di nuovo i loro immobili e poi c'è anche un altro aspetto ci potrebbero essere delle case che lo IACP tiene chiuse perché non ha i soldi per fare la manutenzione quindi anche lì è uno spreco si potrebbero affidare a chi non avendo casa sarebbe anche disposto a fare un piccolo investimento sempre meglio tenerle chiuse però ripeto, poi saranno le autorità competenti ad accertare se quello che sto dicendo magari corrisponde alla verità che non ha i soldi per fare la manutenzione